DG Photo Art, it's media, it's art. Eccoli qua, accompagniamole con i vostri applausi e li presentiamo a nuovo partito dalla categoria Pettino. Il bambino ha la categoria Pettino. Fatevi sentire, fatemi sentire con le mani. Il futuro della nota parte da qua, abbiamo terminato la parte a questa terza elezione, Miss Mr. DL. Il bambino ha la categoria Pettino. Il bambino ha la categoria Pettino. Lavorare con i bambini in posto in finistera. Ecco, piano. Sì, non è finita perché ce ne sono ancora altri. Sì, no, no. Sì, no, no. Sì, no, no. benissimo grazie per i nostri concorrenti che hanno fatto la loro passerella di presentazione adesso partiamo direttamente con la prima spirata vedremo i nostri concorrenti con il costume quindi se può partire la musica noi andiamo subito ad inserire il primo concorrento in tempo giusto che i nostri ragazzi andranno a liberare la scaletta per farlo salire ci siamo allora primo concorrente con il numero uno qui si chiama Cristian Grieco con il numero uno Cristian Grieco eccolo qua Cristian Grieco suonato e mezzo Cristian Grieco vive a Napoli ha detto che da grande il tuo cuore il playboy si chiama Cristian Grieco e da suonato e mezzo per i signori della giuria è il numero uno con il numero due Suzy Morsha ah è andata via perché è semplicitata quindi numero due è da depennare perché è andata via era una bambina di tre anni praticamente è arrivata lì dalla febbre e non partecipa più quindi la numero due è da togliere e tranquillamente depennare con il numero tre Davide Bello Davide Bello ecco qua Davide Bello prego signora due anni di contattere non volevo partecipare perché ha detto che sono bello di nome e di cognome quindi voglio Ti sei salvato! Due anni viene da Napoli Alessandro Cicerano ed il numero 5 Con il numero 6 la volta di Maia Astriano Maia Astriano tre anni Vede da Domigliano Barco e nel numero 6 Ma c'è qualcuno lì che può piacere i polvini da dietro? Con il numero 7 Arriva Piana Febbraio Guarda, ecco la cosa Quattro anni ha avuto la passerella da Pella Almanzerona Viene da Napoli Lei si chiama Chiara Febbraio Ed è la numero 7 Con il numero 8 E la volta di Teresanna Pizzargo Teresanna Pizzargo Quattro anni Quattro anni Ed è la Napoli Ed è la numero 8 Con il numero 9 Ando che ha paesano Guarda qua! Ando che ha paesano Quattro anni Quattro anni Arriva da Napoli Quattro anni Arriva da Napoli Quattro anni della passerella Ed è la numero 9 E' la volta di Francesca Pizzargo Francesca Pizzargo Con il numero 10 5 anni Adesso se non mi fate gli applausi se piantino Arriva da Napoli Il numero 1 si chiama Francesca Piccoli, numero 11 Alessia Piccoli, numero 12 Alessia Piccoli, numero 11 Alessia Piccoli, numero 12, Il numero 12, il vinciondo dell'IPF, Simone Contemi. E' un passito, Simone Contemi. Quattro anni viene da Giubbiato in Campania. E' il numero 12, che si chiama Simone Contemi. Con il numero 13, Giada Amara. Giada Amara. Quattro anni. Arriva da Napoli. E' un numero 13. Numero 14, Laura Stefanile. Cinque anni. Viene da Napoli. E' la numero 14. Si chiama Laura Stefanile. Numero 15, Greco Astriano. Greco Astriano, con il numero 15. Quattro anni. Viene da Popigliano Largo. Nel numero 15. Corosemici, Sara Cipresini. Lopo Iana Sara Cipressini Cinque anni E la numero sedici Numero diciassette Suami Monofardi Suami Monofardi E la numero diciassette Suami ha cinque anni Arriva da Napoli E la numero diciassette Con il numero diciotto Federica Pauvice Federica Pauvice Quello diciassette Azzurra Mario Fioretti Sei atti? Azzurra Azzurra Mario Fioretti Azzurra Mario Fioretti Grazie a tutti. 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 Dario 12 anni. Viene da... Alessia... vive a... la... Gabriella... la... e... la... con... è... la... la... con... la... ... 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